Ben ritrovati, ben ritrovate all'appuntamento sul mio canale YouTube con il Mixed Media Journal. L'appuntamento di oggi è l'ultima settimana dedicata alla sfida 2020. Come sempre, oltre al tema, vi darò delle ispirazioni giornaliere. Farò un post sul sito dove troverete tutte le ispirazioni per la settimana. Vi lascio nel box le indicazioni per connettervi al sito. Ho già creato un inizio di scheda per farvi vedere poi come procedere. La base l'ho fatta utilizzando i pigmenti. A me piace questo tipo di materiale da usare, ma si può usare il gesso come invece in questo caso, stavo provando, si può fare senza nulla. L'importante è creare la griglia. È importante perché così vi potete muovere nelle caselle mettendo, inserendo, quello che sono le lettere. Importantissimo avere, non è detto che debbano essere così grandi le caselle, potete farle anche più piccole. E' importantissimo avere il concetto del negativo, perché dovrete lavorare con il negativo. Quindi devono venire così. Io mi disegno la lettera prima, per esempio. Ad esempio la E, vedete, mi sono disegnata la base e adesso cosa vado a fare? Vado non a lavorare l'interno della E, ma questi spazi vuoti. Posso usare, come in questo caso, i Neocolor a cera, posso usare i pennarelli, posso usare le matite, quello che volete. L'importante è che create il negativo. Ecco, ad esempio, così. Poi l'ho evidenziato, per esempio, con un pennarello. Adesso vado a fare la F. La F la posso fare con un altro colore? Certo, stessa cosa l'ho disegnata prima, in modo che so di non sbagliare, e vado a creare il mio spazio. Non deve essere una cosa complicata, deve essere una cosa divertente. Ecco. È una F un po' strana, però è una F. Ecco, l'ho rifatta così mi piace di più. Non è detto che dobbiate fare, ripeto, l'alfabeto in questo modo, potete benissimo fare le lettere che vi piacciono di più. Vediamo la G come viene. Ho fatto qualche altra lettera. Adesso vi lascio giocare con le lettere dell'alfabeto. Spero vi divertiate questa settimana con l'alfabeto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi aspetto la settimana prossima con qualche cosa di diverso. Finita la sfida, ricominceremo con il nostro journal. Buon divertimento e alla prossima settimana. Ciao! Ciao!